Ecco, fra pochi minuti faranno i loro ingressi in campo le due compagini, qua ci troviamo a Fara, Filon Petri per il big match della giornata, prima giornata degli play-off tra Fara, Filon Petri e Virtus Castelflentano. Ci troviamo allo stadio di Filon Petri, ecco i nostri tifosi giallorossi che incidono i loro beniamini, fra pochi minuti faranno i loro ingressi in campo. Ecco, già si preparano uscite i ragazzi della panchina, Filon Petri giocherà con la maglia prevalenza color giallo, giallo con risvolti azzurri, calzettoni azzurri, pantaloncini gialli. Questo è il lato tutto occupato, chiamiamolo distinti, occupato tutti dai faresini. Ecco i nostri tifosi giallorossi venuti con pullman messo a disposizione dalla società, un pullman per i nostri piccoli tifosi. Qua c'è il dirigente, il consigliere Bruno, Bruno già cominci? Tutto ok? A posto, no dopo lo prendo, a posto, già l'ho bevuto il campo. I nostri ragazzi Sono pronti, pronti a fare il tifo ragazzi?